Mariano, Mariano, ti volevo ringraziare veramente di cuore, Mariano, per come ci hai aiutato a portare a casa la giornata. Non ricordo nulla, sta un bravissimo, eh? E poi ci rimontiamo tutti i mani, capite? René, io non lo voglio più fare, il cote. Cosa? Non lo faccio più. In che... Il mio destino è questo, padre Frediano. Che? Padre Frediano. Ma, questo è il progetto di Lopez. Che sta dicendo? Quello rubato? No. È un'accusa molto brutta, la tua. Quanti anni è che ci conosciamo? Tu mi dici che l'ho rubato, sì, l'ho rubato, ma Gesù Cristo mi ha già perdonato per questo, tu non mi perdoni. Ma fai, ti metti a competere, fai una figuraccia a te. Ma io non... Ok. Ciao. René, io voglio solo fare un provino, chiedo solo una possibilità, una possibilità. Mariano, guarda, se fosse per me, padre Frediani, te lo farei fare subito, senza pensarsi. Sei perfetto, sei, guarda, sei lui. Solo che io purtroppo non c'entro proprio niente a questa storia qui, capito? Io non ho nessuna voce in capitolo, Mariano, io non conto più un cazzo, Mariano. Tu sei un puro, tu c'hai purezza. No, no, ce l'hai, c'hai purezza. C'è più purezza degli altri. Ma sai, forse... Non è una gara, eh? Però tu c'hai più purezza. Tu mi stai facendo capire delle cose. La tua voce è pastosa. Ti ringrazio. È una verità. Ti ringrazio. René, domenica io faccio la prima comunione. Ti voglio in prima fila. Ma, sì, sì, ma... Ti pare che vengo a prima comunione di due, Mariano? E ci vieni, sì, prima fila. Certo, ci sarò, eh? Contaci. Ciao. Porco... Questa è lì. Ah, c***o.